Si deve rimanere arrabbiati fino a domenica due minuti prima della partita. Dobbiamo arrivare lì con quella roba lì, con il rammarico che dobbiamo trasformare in rabbia per poter andare lì e cercare di fare ciò che non siamo riusciti a fare oggi, cioè un gol per vincere la partita. La prestazione, l'atteggiamento, le utilizzeremo per la consapevolezza che possiamo rifare un'altra grande partita. Il punto di partenza di Vicenza dovrà essere questo. Non ci sono altre possibilità, trasformare la rabbia in energia positiva, costruttiva, capace di affrontare l'ennesima, difficilissima sfida del Menti con la stessa grinta, la determinazione cattiveria avuta nella stregatissima notte del partenio Lombardi. Perché questo accadami che le pazienze ha davvero bisogno di tutti e di uno in particolare, di Lorenzo Sgarbi, che vuole tornare ad essere il Magnifico, perché il suo genio in queste prime tre sfide dei play-off si è nascosto e riemerso a tratti, col Vicenza martedì scorso, ma il bagliore che lui sa emanare con le sue giocate, la sua tecnica, la sua intelligenza e il suo meraviglioso talento, non si è ancora visto del tutto. Colpa della lunga sossa, delle troppe aspettative, della posizione in campo, i motivi possono essere tanti e in fondo di conosce solo lui, a noi interessa poco. Noi sappiamo che nulla è perduto, che Lorenzo, se vuole, sa fare il Magnifico, trasformando in oro tutto ciò che tocca. Così come sappiamo che per Chicco Patieno è stata solo una notte incredibilmente sfortunata e che il gol tornerà già al Menti, ne siamo sicuri. Michele Pazienza intanto medita novità in difesa, tenendo conto della stanchezza e un minimo anche dei diffidati, Cionec, Regione, Armellino e Palmiero, torna Cancellotti dalla squalifica che prende il posto di Cionec. A centrocampo De Cristofaro ha rifiatato ed è fresco, Palmiero dunque potrebbe scivolare in panchina, mentre sugli esterni Ricciardi e Leotti scalpitano. In attacco Sgarbi e in vantaggio Sugori, al fianco di Paterno, ma le sorprese, Pazienza sta usando e continuerà a farlo a dispetto di chi lo ha accusato di essere poco coraggioso dopo la sconfitta di Catania, non mancheranno di certo.